Dopo la mostra inaugurata al Museo Archeologico Nazionale, che mette a confronto i personaggi del mito greco con quelli di Star Wars, la saga di George Lucas continua ad invadere i luoghi d'arte della Campania. Con grande stupore dei turisti, infatti, ieri alla reggia di Caserta, sono arrivati oltre 50 figuranti vestiti come gli eroi di guerre stellari. Nei corridoi del monumento vanvitaliano, che furono set d'eccezione per gli episodi 1 e 2 della saga, hanno sfilato anche le armate della 101esima legione, con i costumi che George Lucas utilizzò per girare. La reggia di Caserta è partner dell'iniziativa e promotrice di una vera e propria Star Wars Experience. Ogni 4 maggio in tutto il mondo si festeggia lo Star Wars Day, la giornata dedicata a tutti i fan della saga stellare. A Caserta, grazie anche al regista Ciro Sapone, che ha collaborato con Lucas, centinaia di turisti e tutti gli appassionati di Star Wars hanno potuto incontrare i loro beniamini. Per chi ancora non l'avesse vista, invece, la mostra del Man rimarrà aperta fino al 31 luglio. Tra i pezzi forti, una rarissima versione Lego del Millennium Falcon, stimata per 25.000 euro, e la sceneggiatura originale di Star Wars Episodio 1.